Ragazzi, le avete viste tutti quanti le foto del professore con i ragazzi che fanno il saluto romano dentro una scuola? Ma il colmo è che immediatamente tutta la sinistra è scesa quasi in piazza gridando Ah, nelle scuole! Non è permesso che professori del genere parlino di fascismo, inneggino al ventennio! Non è possibile! Cosa sta succedendo nelle nostre scuole? E ad uno sono intervenuti Gualtieri preoccupa l'aumento di episodi di razzismo e omofobia Roma non può tollerare atteggiamenti fascisti La piccolotti davanti agli atteggiamenti fascisti e omofobi Perché nessuno è intervenuto prima? Ora serve un'indagine approfondita Anna Scani, PD, espressioni razziste e comportamenti volgari Saluti rofascisti, Valditara e nostro ministro castigatore Che cosa dice? L'Amalpezzi, frasi discriminatorie, omofobe, comportamenti indegni Un docente così non può stare in classe Morasut, perché la dirigente scolastica non si è adoperata Per dare seguito alle segnalazioni ricevute E Cecilia Delia, sempre PD, quadro incompatibile con i valori su cui si fonda il sistema di istruzione Bisogna intervenire! E colmo dei colmi esce fuori che il docente era un dem Era uno del partito democratico Addirittura sembra un dirigente, leggo qua E subito stamattina, libero, ci apre in prima pagina Il prof fascista è del PD Saluti romani, omofobia scuola La sinistra si indigna e chiede l'intervento del ministro Poi scopre che l'insegnante era un dirigente dem Lui, sono comunista e pro-LGBT Incontro con Tesline in convento Il campo largo va già a farsi benedire E andiamo a vedere subito l'articolo a pagina 2 del mitico Francesco Storace Saluti romani e razzismo Il prof fascista è del PD Dopo le accuse a Valditara Sinistra rossa di vergogna Opposizione indignate per alcune fotografie di un docente di Roma Ha nostalgia dei Mussolini ed è un razzista In realtà è di sinistra Il ministro dell'istruzione Pessima figura di chi ha puntato il dito E andiamo a leggere l'articolo di Storace La pasta asciutta antifascista è andata di traverso persino il solitamente loquace Paolo Berizzi di Repubblica Stavolta è rimasto a digiuno, si vi ricordate? Le spaghettate antifasciste d'Italia La follia ragazzi Questi vedono fascisti ovunque Anche dai loro dirigenti di partito Fantastica A sinistra avevano montato l'altro ieri il solito casino contro il professore omofobo fascista razzista Della scuola Pirelli di Roma Ma poi 24 ore dopo hanno dovuto fare retromarcia E scomparire salvo qualche poco lodevole eccezione Già perché si è scoperto che il fenomeno fotografato in tutte le salse è in realtà un dirigente del PD abruzzese che poi si è trasferito nella scuola romana La vergogna dovrebbe montare a Nazareno Io dico sempre che quando la superbia galoppa la vergogna siede in groppa Ecco qua La vergogna dovrebbe montare a Nazareno ma si sono quasi tutti rintanati dentro casa Forse sarà il caldo Raga fa 40 gradi Una vicenda che ricorda le famose uova lanciate contro l'atleta di colore a Torino Dei Lee Dei si usa acque Un altro caso di razzismo immaginario che però sarà finito a sculacciate Visto che l'atto eroico era stato portato partorito dal figlio di un dirigente locale del PD Ripetita Juvent Ora ci sono ricascati Come ha denunciato il ministro Valditarra Ormai è certo Il famigerato professore fascista dell'Istituto Pirelli Che ha indotto numerosi esponenti del PD e del Movimento 5 Stelle A paventare il rischio di un dilagare di episodi di fascismo a scuola E' in realtà un ex dirigente del PD abruzzese Non solo E' anche un convinto antifascista Chi si è precipitato a chiedermi dichiarazioni di condanna e di stigma verso il pericoloso eversore Ha fatto una pessima figura Peccato che fra costoro vi sia anche un autorevole esponente del PD Anna Scani, vicepresidente della Camera Che quantomeno per il ruolo ricoperto che avrebbe dovuto usare maggiore prudenza e toni più misurati ed istituzionali Chiarito che il docente non è un pericoloso fascista Ha concluso Valditarra L'ufficio scolastico del Lazio verificherà ora se realmente il professore ha usato espressioni omofobe e razziste Ovviamente da sinistra si sono ben guardati dall'apprezzare la trasparenza del ministro Altro che pericolo fascista Era tutto in casa rossa Ma nemmeno chiedono scusa Beh ma è normale Mai loro chiedono scusa Di più è proprio la Scani a fare l'offesa con un'incredibile dose di faccia tosta Spero di aver capito male Ha davvero aspettato di verificare che partito voti il professore prima di stigmatizzare immagini, espressioni e comportamenti? Dunque se il professore fosse stato un elettore della Lega o di un altro dei partiti che sostengono il suo governo Lei sarebbe rimasto in silenzio? Mica ha finito così la sua incredibile esternazione la vicepresidente della Camera con le travecole rosse E ha aggiunto che Valditarra ha parlato solo quando ha saputo che l'insegnante è del PD A parte il fatto che il ministro dell'istruzione certo non tarda mai a condannare episodi improntati all'estremismo Quel che lascia la mano in bocca è l'assenza di qualsiasi espressione di censura di Lascani verso il professore in questione I compagni non si toccano E ora? Ovvia e giusta quindi la reazione della deputata leghista Giovanna Miele Appurato che il professore accusato di omofobia e razzismo sarebbe un ex dirigente del PD Che tra l'altro si è dichiarato convintamente antifascista Vorremmo sapere cosa hanno da dire adesso tutti gli esponenti di PD e Movimento 5 Stelle Che si sono sbracciati per pretendere ferma condanna da parte del ministro Valditarra A partire dalla vicepresidente della Camera Anna Scani Senza nemmeno capire come sono andate davvero le cose In attesa che l'ufficio scolastico regionale possa chiarire la vicenda facendo la verifica del caso Ci aspettiamo che parta dalla sinistra un atteggiamento più misurato e meno arrogante Ma io lo dico sempre quando la superbia galoppa la vergogna siede in groppa Chiamati in causa reagiscono malamente i bentastellati Ma quando mai? Della commissione scuola della Camera Che in realtà punzecchiano più il PD che il ministro Valditarra ci informa infatti che il prof del Pirelli sarebbe un dirigente PD abruzzese Come se questo lo giustificasse in qualche modo o svilisse chi come noi ha chiesto al ministro di fare luce sulla vicenda che lo ha coinvolto Ma chi se ne frega di quale partito è quel prof? Vabbè ma ormai il PD è il fratello maggiore dei 5 Stelle Il dovere di un ministro pontifico nei parlamentari dell'Azzolina È verificare quanto è accaduto e intervenire se necessario Non indagare quale sia il partito di questo o quel docente Siamo di fronte... ma com'è? Ma com'è non di indagare? Ma dite! Ma che cosa dite? Che cosa dite? Siamo di fronte all'ennesima polemica politica becera sulla pelle della scuola In cui a fare una pessima figura è proprio Valditarra Ma d'altronde è abituato A me questi 5 Stelle ragazzi Sono veramente di una pesantezza unica Nemmeno una parola di vicinanza ai loro alleati Attaccano il ministro solo per fare male dal PD Per concludere e freggiare con la medaglia dell'ipocresia le sinistre italiane Ci asteniamo dal pubblicare le decisioni di dichiarazioni Con cui hanno inondato la redazione sull'identità fascista del professore Hanno preso una toppa clamorosa Evitino di insistere perché fanno solo figuracce con lo spauracchio del regime di ritorno Purtroppo, come diciamo sempre, quando non hai argomentazioni Questo diventa pane il salvagente per una politica, quella a sinistra Che non sa minimamente in quale mondo si trovi a mio avviso